Benvenuti in questo nuovissimo videozzo. Oggi siamo ritornati nello Z. Partiamo subito. Le domande a fine video, quindi lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi e condividete il video con i vostri ammiccioi. Gunther 05, ufficiale ci fa. Arma di Fortnite preferita. Allora, il pompa tattico, quello lì mi trovo benissimo, o quello viola che adesso è quello pesante, quello nero se non mi ricordo, il fucile da caccia. Andrea Gamer 284, cosa hai provato quando io e Blazeman abbiamo discusso sui sette nanni nella live di Fortnite? Niente, non ho provato niente. Sai sciare? No, mi piacerebbe imparare e ho deciso che quest'inverno vado a imparare a sciare, quindi se volete qualche video di dove imparo a sciare ditemelo qua sotto nei commenti. Zamas Dai, segui il calcio? No, si, ciò, ciò, c'è, cuci, terra, pesca o limone? Limone, però io li bevo tutti e due. Ti piace Netflix? Si, si, che serie preferisci o stai guardando? Quella che sto guardando adesso si chiama Shotter, è la mia serie preferita, direi, mettere la casa di carta, perché è quella più bella che ho visto, quindi la casa di carta. No, è KM, Rarox TV. Tonno Salmone? Salmone. Power 92 o Ray Kings? Power 92. Egg Donald, Burger King? Burger King non ci sono mai stato. Sprite o Red Bull? Sprite, no, aspetta, Red Bull. Brock Lesnar o Braun Strowman? Braun Strowman. Giuseppe, fai un video vlog quando lo registri, non lo so ancora quando fare vlog? Sushi o pizza? Pizza. Hai solo gatti o anche altri animali? No, per il momento solo gatti, ho avuto due cavie. e tanti cricetti russi e due cricetti di quelli grossi, però basta. Che sport preferisci tra calcio e basket? Basket perché io all'elementare facevo, facevo, ci sono, c'erano quei corsi extra scolastici, facevo basket. Ho provato a fare judo, basket e basta. Ti stimo frate, mi sautti nel prossimo video. Ciao! Carne o pesce? Carne. Ti piacciono gli anime? Gli anime da Batal? No. Farei un video di miei follower contro la mia vita per 24 ore? Penso di sì, però penso di farlo soltanto da quando mi sveglio alla sera. Farei dei vlog? Sì. Farei dei prova a non ridere? Sì, però vorrei farlo in maniera diversa, quindi se avete qualche idea ditemela pure nei commenti. Da bambino avevi i capelli come li hai adesso oppure di un altro colore? Come li ho... no, ce l'avevo più chiari, ce l'avevo più chiari. Hai mai vinto una coppa o una medaglia? Sì. Ho vinto questa medaglietta qua, che adesso spero si veda, ok, sì. Che era del torneo... del torneo di pugilato che avevo fatto ed ero arrivato secondo. Ragazzuoli, le domande di oggi sono finite. Inizio subito a lasciare un bel polizio in su, a fare le tante domandine qua sotto nei commenti. Ah, vi invito, se avete voglia di farmi una fanarte, se ci tenete, mandatemela su Instagram, io ve la mostrerò qua all'inizio del video. Quindi, un bel polizio in su, commentate, condividete con i vostri amici. Seguitemi sui sociali in descrizione, condividetemi su tutti i sociali. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ciao! Ciao!